ragazzi fuori sta nevicando 0 gradi meno 1 ma noi andiamo in giro con il casco jets lo sappiamo siamo un po stravaganti ma del resto c'era la novità e allora i ragazzi cgm italia ci hanno mandato proprio lui ovvero il 130 daytona ragazzi prodottino sfizioso davvero interessante e se lo dice il vettor che lo sapete di solito il casco jet non lo utilizza per un discorso di sicurezza preferisco il casco integrale insomma ascoltatemi e adesso andiamo ad analizzarlo perché il prodotto mi piace davvero tanto e c'è una cosa particolare ma molto legata alla sicurezza che i ragazzi cgm non hanno tralasciato quindi bravi e tra l'altro un caso davvero unico ma adesso andiamo a vederlo allora intanto 130a daytona il casco è il 130 daytona abbiamo la a versione mono e poi 130s a pasci invece le grafiche tra l'altro qua vediamo dei colorazioni interessanti mi piace molto il giallo fluo intramontabile ma anche queste due non sono affatto male questa è proprio quella che ho utilizzato in questi test tra l'altro vedete anche nell'immagine a copertura anche all'alba alle 6 6 e mezza del mattino meno un grado meno due sono uscito con il cgm daytona per provarlo con calma e però vedete anche le altre colorazioni opache non sono davvero male allora partiamo con il peso 1350 grammi più o meno 50 poi caratteristiche esterne intanto ve lo vado a mostrare come facciamo sempre lo facciamo girare possiamo già apprezzarne la grafica davvero molto attenta nei dettagli e anche la forma mi piace davvero molto è sostanzialmente un bel gettone che si presta per l'utilizzo con moto naked maxi scooter insomma davvero un prodotto interessante due misure di calotta esterna realizzate in materiale termoplastico e addirittura tre calotte in eps a densità differenziata insomma contenuti ne hanno nonostante sia un prodotto con un prezzo interessante e quindi dopo andremo a vederlo poi chiusura micrometrica eccola qua tra l'altro guardate attenzione del dettaglio ben imbottita la bandierina italiana elastica per far passare l'eventuale avanzo dell'accetto ecco mi raccomando soprattutto con la chiusura micrometrica allacciate bene il casco ovvero regolatelo sulla vostra dimensione lo regolate una volta d'estate una volta d'inverno perché ovviamente con lo scaldacollo o con i sottocaschi la larghezza cambia e poi lo stringete bello stretto il casco va allacciato stretto non largo e mi raccomando due le versioni abbiamo detto mono o apache e poi andiamo a vedere le taglie indicando tutte le varie misure dalla xs alla xxl allora xs 53 54 s 55 56 m 57 58 e poi a salire fino alla xxl 63 64 allora per chi non ha mai utilizzato un casco vi misurate la circonferenza il vostro cranio guardate questa tabellina e andate a scegliere la vostra misura però come consiglio sempre il casco va approvato quindi andate in negozio lo calzate lo tenete su qualche minuto e vedete come vi sta indosso è un prodotto che veste un po stretto quindi sostanzialmente indosso una m devo dire che questo prodotto ovvero il 130 daytona corrisponde più a una 57 che una 58 quindi molto bene poi vedremo perché ma arriviamo agli ok del vector cosa mi è piaciuto di questo prodotto e intanto vado a indossarlo così vedete anche come sta in testa allora cosa mi è piaciuto il design lo abbiamo detto davvero davvero interessante ve lo faccio vedere anche di lato con il viserino abbassato che si comanda con questo cursore tra l'altro molto facile l'azionamento e molto rapido lo faccio vedere anche da davanti con la visera chiusa vedete un po sporco perché del resto oggi l'abbiamo detto c'era anche un po di nevischio allora design rapporto qualità prezzo interessante poi ragazzi visiera guardate quanti aspetti interessanti a questo accessorio ovvero mi è piaciuto molto lo sgancio andiamo a vederlo molto molto rapido guardate con che semplicità si può rimuovere la visiera si tira questa livetta verso la parte anteriore del casco e vado a sganciare la mia visiera stessa cosa per riposizionarla apro posiziono guardate che geniale è questo sistema di aggancio visiera davvero molto bravi dietro agli sganci gli agganci delle visiere c'è tantissimo lavoro devo dire che questo è un bel prodotto mi piace poi lunghezza gettone quindi per forza di cose visiera bella lunga che va a coprire bene poi il profilo lo vedete questo profilo aerodinamico sicuramente è stato studiato per rendere più stabile il prodotto quindi diminuire le turbolenze e poi il comando l'abbiamo detto lo sgancio della visiera ma anche il comando del visierino si aziona molto facilmente anche con i guanti invernali indossati guardate poi qua va a chiusura abbattuta la visiera su questo bordino insomma grande attenzione l'abbiamo detto ecco arriviamo a uno degli aspetti davvero secondo me fondamentali per la sicurezza in questo mi complimento con i tecnici di cgm hanno fatto un ottimo lavoro c'è grande sostegno delle spugne è un ottimo fitting veste bene veste strette uno dei pochi prodotti moderni che veste bene ragazzi ore 6 30 del mattino un grado fa freddissimo ma recesito non si ferma e stiamo provando il casco jet di cgm tra l'altro vestibilità perfetta bella stretta e calza alla perfezione bravi ragazzi quasi tutti i costruttori tendono a rendere il casco più confortevole per la maggior parte dei motociclisti quindi renderlo più largo ma larghezza non è sinonimo di sicurezza e questo casco veste davvero molto bene mi piace moltissimo quindi voglio sottolineare questo aspetto perché insomma è chapeau bravi bravi cgm marchio italiano ricordiamolo per chi non lo sapesse ma tra l'altro lo vediamo anche qua vedete italian lifestyle insomma i bravi e arriviamo infine al prezzo lo avevamo detto prodotto comunque con prezzo interessante 98 euro più iva per il mono e la pace invece 113 euro più iva mi stavo dimenticando un altro aspetto interessante sono le prese d'aria prima di salutarci prese d'aria nella parte alta ecco nel prossimo 130 daytona cosa vorrei delle prese con un maggiore grip magari con un profilo più facilmente gestibile magari con i guanti invernali però devo dire che vedete si comanda bene in maniera facile quindi passato anche questo test e poi altra cosa che vediamo nella parte posteriore due prese in estrazione nella parte posteriore quindi abbiamo detto due anteriore dinamiche e due in estrazione nella parte posteriore come vi ho detto il design è davvero ben riuscito quindi brava cgm intanto che giovanna fa una carrellata sulle varie colorazioni che abbiamo qui ecco cosa molto interessante e mi complimento anche in questo con cgm tantissimi accessori ricambi è un marchio cgm che ha davvero un magazzino ricambi vastissimo trovate tutti i prodotti per tutti i prodotti i loro accessori anche di prodotti datati quindi bravi di questo nonostante sia un casco semplice quindi un jet abbiamo una lista infinita di accessori ne leggo soltanto alcuni lente attiapanamento pinlock c'è trasparente fumè 75 fumè 25 e anche gialla devo dire che pochissimi produttori di caschi rendono disponibile la lente pilo anche in altre colorazioni non soltanto la bianca in questo caso ho montato su questo prodotto vedete quella bianca ringrazio i ragazzi cgm sono stati molto attenti mi hanno inviato una visiera dedicata con la lente pinlock montata perché sanno che consiglio sempre di utilizzare la lente pinlock perché ci fa guidare più sicuri poi per esempio kit di interni altra cosa parlando di grande sostegno mi sono piaciute molto le spugne guardate sostegno massimo in questa zona parte posteriore ma anche anteriore andando a tastare la spugna si sente che è una spugna di qualità ecco dicevamo il kit degli interni ovvero la cuffia più due ganciali viene venduta a 30 euro insomma ogni anno io vi consiglio di cambiare gli interni o ogni due anni perché lo sappiamo cambia il ph della pelle quindi possono più o meno cedere il casco invece vi consiglio di sostituirlo ogni 3 4 anni anche se le aziende dicono 5 ho praticamente concluso come sempre andate a visitare il sito di cgm appare qua sotto cgmitaglia.net dove trovate questo prodotto tutti quelli per adulti ma anche la linea bimbi mi complimento sempre con loro perché è finalmente un'azienda che fa anche i caschi per bambini perché al vostro figlio o figlia non fate indossare un casco d'adulto in misura piccola ci sono i caschi con le calotte per bambini mi raccomando è grande sicurezza ottimo continuate a seguire i nostri canali social facebook instagram moto.it automoto.it se siete appassionati di auto e poi maurizio vettor power se avete qualche domanda da farmi fate una stories mi taggate io vi rispondo se avete il profilo però privato mi raccomando io non vedo che mi avete taggato quindi fate uno screenshot me lo mandate e io poi vi rispondo ok ciao ragazzi alla prossima mi raccomando casco allacciato stretto e lente pinlock montata ciao anche dai ragazzi di cgm ciao ciao ciao